Buona giornata, prima edizione del TV giornale di Telestense, tra poco ampio spazio alla giornata della prevenzione cardiovascolare che si tiene proprio oggi a Ferrara, il tutto tra l'altro dopo un convegno tenutosi ieri mattina in Castellestense, ma parleremo anche dei casi il Covid, 33 nuovi casi di positività nelle ultime 24 ore e faremo un bilancio anche dell'indice RT che è in calo rispetto alla settimana scorsa. Parleremo anche di altre notizie, il prefetto Campanaro ieri ha salutato il capitano Coppi della Compagnia di Comacchio che lascia appunto dopo dieci anni questo incarico e poi parleremo anche di cronaca, c'è stato un furto in Sardegna, un furto di sabbia e sassi praticamente da parte di un rumeno residente a Ferrara. Per finire vi anticiperemo dettagli sulla giornata per il creato che si terrà domani con un'iniziativa al Lido di Volano e avrà come partner anche Telestense. Cominciamo subito da quanto sta accadendo, dalle prime ore di questa mattina, tanti ferraresi hanno voluto fare un check-up gratuito e senza prenotazione del livello di rischio cardiovascolare con cui un'equipa multiprofessionale ha fornito anche informazioni sui corretti stili di vita e dato lezioni sull'uso del defibrillatore. La giornata per la prevenzione cardiovascolare promossa dalla regione Emilia-Romagna all'interno della campagna Tieni in forma il tuo cuore vede Ferrara come prima tappa del tour. La struttura e i professionisti saranno a disposizione in Piazza Castello fino alle ore 18. Il primo paziente della clinica mobile è stato l'assessore regionale alle politiche per la salute Raffaele Donini che si è sottoposto all'analisi per la valutazione attraverso l'algoritmo computerizzato della carta del rischio, del proprio livello di rischio cardiovascolare che consente di stimare la possibilità di avere nei prossimi anni una grave malattia cardiovascolare e di modificare quindi in ottica preventiva lo stile di vita. Ovviamente di questo parleremo in maniera più approfondita nell'edizione delle 19.30 ma intanto vediamo il convegno che si è tenuto ieri mattina in Castello Estensa. Tieni in forma il tuo cuore è un progetto della regione Emilia Romagna in un momento particolare che è quello che ha accompagnato gli ultimi due anni della nostra vita lavorativa e sociale. È un progetto che rilancia l'attenzione sulla prevenzione cardiovascolare e quindi è estremamente importante ed è dedicato ai cittadini di tutte le città più importanti della regione Emilia Romagna. Si parte da Ferrara il 4 settembre dalle 10 alle 18 in Piazza. In cosa consiste? Nella valutazione del profilo di rischio dei cittadini con alcune misure molto semplici che vanno dalle valutazioni di quelli che sono alcuni dei parametri fondamentali sesso, età, altezza, peso, calcolo del BMI, valutazione della pressione arteriosa, valutazione della colesterolemia e anche del colesterolo buono e cattivo, valutazione della glicemia e questo ci consente di determinare un profilo di rischio cardiovascolare per i cittadini che si sottoporranno a questo tipo di valutazione. Oltre a questo verrà fatta anche una semplice valutazione del ritmo cardiaco con uno strumento molto semplice che consente di identificare quelli che hanno delle problematiche aritmiche e anche questo è molto importante. Questo evento ha il significato di rilanciare l'attenzione sulla prevenzione. La cardiologia è diventata una cardiologia interventiva molto importante e anche quella della nostra provincia di Ferrara, coordinata con le cardiologie di centro del Delta, hanno svolto un ruolo importante nella rete dell'infarto e nell'organizzazione degli interventi più importanti, ma questo non è stato sufficiente ad abbattere quella che è la mortalità cardiovascolare. Dobbiamo cambiare scenario, aprire un orizzonte diverso, occuparci di prevenzione. Per fare questo ci vogliono molti attori che erano presenti al convegno scientifico del 3 settembre, dal territorio all'integrazione territorio-ospedale, dai medici di medicina generale agli specialisti sia territoriali che degli ospedali. È molto importante che ci sia una collaborazione a 360 gradi per lo stesso obiettivo. Solo lavorando insieme riusciremo ad incidere sulla prevenzione e a ridurre il numero dei pazienti che accedono in ospedale. Fare cultura della prevenzione fin da bambini, grande attenzione all'integrazione di tutti i soggetti, ma da questo punto di vista la nostra legione è maestra, e una visione. Quindi la visione, la capacità di capire che oggi è il momento del cambiamento e qui ancora un'opportunità secondo me sono davvero le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che nelle tre missioni mette a disposizione del Paese Italia decine di miliardi di euro. E si è parlato anche di Next Generation, illustrata dalla direttrice generale dell'Ausl, Monica Calamai. La sentiamo. Nel PNRR ci sono una serie di elementi che ci consentono e di strumenti di rilanciare in modo eccellente quella che è l'investimento sulla prevenzione. A partire dal potenziamento delle case di comunità, questo cambio di nome non è casuale, vuol dire che c'è un coinvolgimento della comunità, delle istituzioni locali, oltre che dei cargiver, cioè quindi più attori che sono poi tutti quegli attori che diventano sostanziali per poter agire su azioni di prevenzione che consentono alla popolazione di migliorare complessivamente quello che è il loro stato di salute. Chiaro che abbiamo diversi livelli, perché abbiamo anche una fascia di popolazione particolarmente provata per età, ma anche perché ha multicronicità e lì agiremmo con una prevenzione di un certo tipo, ma che ci deve tendere a renderli autonomi e non quindi infermi o disabili. Quindi veramente a tante facce, ma il PNR con gli strumenti che ci mette a disposizione, tra cui ho citato le case di comunità, ma un altro elemento straordinario è rappresentato dal digitale, dagli investimenti sul digitale, che andando a riflettere, ripercorrere l'organizzazione, diciamo così, del territorio e delle aziende, permette anche di utilizzarlo come strumento potentissimo per arrivare nelle case delle persone. La prevenzione, che è territoriale, mi pare evidente perché è dove vive la gente, nei luoghi dove vive la gente, quindi questo diventa sostanziale e veramente coinvolge dalle scuole fino ad arrivare ai comuni, le regioni, il governo stesso. Il digitale può rappresentare uno strumento potente per raggiungere tutti gli individui che fanno parte della popolazione in modo chiaramente diversificato a seconda del tipo di prevenzione che dobbiamo fare. Ci sono poi figure nuove, straordinarie, come le infermieri di comunità che stiamo mettendo in campo, che vengono ulteriormente incentivate dal nostro PNRR e che anche loro hanno molte funzioni ovviamente, ma una di queste è veramente di stare nella collettività, individuare anche fattori di rischio e agire e aiutare in quella che è la prevenzione, chiaramente inserendosi, essendo inseriti all'interno di un gruppo multidisciplinare. Torneremo su questo argomento questa sera alle 19.30 nell'edizione serale del TV Giornale, adesso invece pur rimanendo nell'ambito della sanità cambiamo argomento, parliamo di Covid con i numeri del bollettino che restano piuttosto stabili rispetto al giorno precedente, però con un leggero aumento dei ricoveri al Sant'Anna. E intanto continua la campagna vaccinale in tutto il territorio ferrarese. Vediamo. Rimane stabile nel ferrarese il numero dei nuovi positivi al virus. A dirlo è il bollettino che fa riferimento a giovedì 2 agosto, dove sono registrati 33 nuovi casi da Covid-19, 5 in meno in 24 ore, individuati con 260 tamponi refertati. 17 il numero dei nuovi guariti comunicati dal Dipartimento di Sanità Pubblica, mentre nel bollettino odierno non si è registrato nessun decesso. Nel bollettino di oggi si registrano invece 5 nuovi ricoveri all'ospedale Sant'Anna. In totale a Cona ora sono 43 i posti letto occupati, di cui sei in terapia intensiva. Stabile anche il numero dei ricoveri nei reparti Covid dell'ospedale del Delta di Lago Santo, dove ci sono 8 persone ricoverate. Salgono leggermente di miglia romani i casi da coronavirus, sono 721, rilevati su 33.490 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, ma si registrano anche tre decessi, tra cui una donna di 64 anni in provincia di Reggio Emilia. Aumentano anche i ricoveri in terapia intensiva. Ci sono 49 pazienti, uno in più nelle ultime 24 ore, mentre sono 395 le persone ricoverate negli altri reparti Covid, 7 in più nelle ultime 24 ore. Continua intanto la campagna vaccinale a Ferrara e Provincia. Sono state 921 le dosi di vaccino somministrate nella giornata di giovedì 2 agosto. Dall'inizio della campagna sono 260.760 i ferraresi che hanno ricevuto la prima dose e 214.450 i cittadini estensi che hanno completato il ciclo vaccinale per la seconda dose. E torniamo da notizia anticipata in apertura. Risulta in calo questa settimana l'indice RT a livello nazionale, ma tutti i motivi li vediamo appunto nel seguente servizio. Indice RT in calo, ma quasi tutti i casi di Covid presenti in Italia sono causati dalla variante Delta. È questo in sintesi ciò che emerge dal monitoraggio settimanale all'esame della cabina di regia. Nel dettaglio, nel periodo 11-24 agosto, l'indice di trasmissibilità RT medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,97, prossimo alla soglia epidemica ed in lieve diminuzione rispetto alla settimana precedente, quando aveva raggiunto il valore di 1,01. Si osserva una lieve diminuzione anche dell'RT basato sui casi con ricovero ospedaliero. L'incidenza settimanale a livello nazionale dei casi di Covid-19 è pari questa settimana a 74 per 100.000 abitanti rispetto al valore di 77 per 100.000 abitanti del periodo 20-26 agosto e riportandosi sui valori registrati alla metà di agosto. L'incidenza rimane al di sopra della soglia settimanale di 50 casi ogni 100.000 abitanti, che potrebbe consentire il controllo della trasmissione basato sul contenimento, ovvero sull'identificazione dei casi e sul tracciamento dei loro contatti. Sono 17 però le regioni e le province autonome che questa settimana risultano classificate a rischio moderato, secondo i dati della bozza del monitoraggio settimanale. Erano 10 la scorsa settimana. Le restanti 4 regioni risultano classificate a rischio basso. 7 regioni e province autonome riportano l'ERTA di resilienza. Spicca al caso della Sicilia, dove i nuovi casi di Covid-19 segnalati a settimana sono in crescita e pari a 9.771. Casi in crescita nel treno settimanale anche in Veneto, con un numero pari a 4.217. E adesso cambiamo argomento. Parliamo di quanto è avvenuto ieri mattina, quando il prefetto Michele Campanaro ha ricevuto a Palazzo Don Giulio d'Este la visita del capitano Andrea Coppi, da 10 anni comandante della Compagnia Carabinieri di Comacchio, in procinto di essere trasferito nel V Reggimento Carabinieri Emilia Romagna di Bologna, dove ricoprirà la carica di comandante della Compagnia Comando e Servizi, ufficiale d'armamento. Il rappresentante del governo ha voluto salutare l'ufficiale con l'augurio di un brillante prosiegue di carriera verso incarichi prestigiosi e di sempre maggiore responsabilità. Spazio della cronaca adesso, un uomo di origine rumena, residente a Ferrara, è stato fermato in Sardegna per aver rubato sabbie e ciotoli dalle spiagge della regione. I dettagli nel servizio. Fermato per aver rubato ciotoli dalle spiagge della Sardegna. È successo al porto di Olbia, dove i funzionari dell'Agenzia delle Dogane Monopoli di Sassari hanno rinvenuto nel bagagliaio di un cittadino rumeno, residente a Ferrara e in partenza per Livorno, sassi prelevati a Capopecora, sulla costa sudorientale della Sardegna. Anche se in calo rispetto agli anni scorsi e nonostante la campagna di comunicazione avviata dall'Agenzia delle Dogane Monopoli con la regione Sardegna, le razzie proseguono. Negli ultimi giorni all'aeroporto Costa Smeralda di Olbia i rinvenimenti da parte dei funzionari dell'Agenzia delle Dogane Monopoli di Sassari, in collaborazione con i militari della Guardia di Finanza del gruppo di Olbia, sono stati due. Il primo a carico di un cittadino svizzero che ha tentato di portare via una bottiglia piena di sabbia e una busta di pietre e ciotoli dall'arenile di Porto Rotondo. Il secondo, relativo a un cittadino olandese in partenza per Amsterdam che trasportava 1,1 kg di sabbia e ben 3 kg di ciotoli. Per i passeggeri coinvolti, che hanno dichiarato di ignorare la normativa ambientale, è scattata la sanzione amministrativa che va da un minimo di 500 a un massimo di 3.000 euro. Intanto le fiamme gialle del comando provinciale di Ferrara hanno sequestrato 370 kg di vongole veraci grosse, prive dell'etichettatura e tracciabilità. I finanzieri della tendenza di ricco di Goro hanno controllato un furgone condotto da un dipendente di una cooperativa di pescatori di Goro. All'interno del veicolo la guardia di finanza ha rinvenuto una dozzina di cassette di vongole non etichettate e prive dei documenti necessari all'identificazione del prodotto e al relativo trasporto. Adesso invece parliamo di quanto avverrà domattina. Torna infatti domani a Rio di Volano insieme per il creato, iniziativa di pulizia della spiaggia nata nel 2018. L'evento patrocinato dall'ente parco del Delta del Po vede tra i partner anche telestense. Sentiamo. Torna domenica 5 settembre a Lido di Volano l'iniziativa di pulizia della spiaggia nata nel 2011 riproposta ora per il quarto anno consecutivo sempre in concomitanza con la giornata mondiale per la salvaguardia del creato. A coordinare l'evento l'ex comandante della polizia provinciale Claudio Castagnoli dà sempre in prima linea per le iniziative volte a proteggere l'ambiente. Vi aspettiamo domenica 5 settembre per la quarta edizione della giornata del creato. Una giornata dedicata alla raccolta dei rifiuti ma anche grazie alla valle delle albicocche una giornata dedicata alla solidarietà perché avremo in dono 100 kg di frutta che daremo all'emporio solidale il mantello di pomposa. Quindi tutela dell'ambiente e solidarietà per le persone bisognose. L'evento che vede in partnership anche telestense è patrocinato dall'ente Parco del Delta del Po. Domenica sia come cittadino e come rappresentante del Parco del Delta del Po parteciperò all'iniziativa di pulizia della spiaggia di Volano insieme a tantissimi altri volontari. Come cittadino assolutamente perché sono sensibile al tema delle microplastiche in mare e come Presidente il Parco del Delta del Po ha concesso il patrocinio all'iniziativa perché crede in questo genere di iniziativa e soprattutto crede nelle persone che possono portare avanti questo tema. Siamo in tanti, ci sono tante associazioni, siamo nel cuore del Parco, ci sarà il Parco che è con noi, tutti i rifiuti verranno portati in sacchi suddivisi e il lunedì Clara li verrà a portare via. Quindi se vi garba essere parte di questo progetto venite domenica alle 8.30 qui al bagno Breakout al Lido di Volano. E adesso parliamo delle nuove uniformi della Polizia Municipale. Pratici pantaloni di taglio sportivo con ampie tasche, polo a maniche corte e lunghe d'inverno con in evidenza grado e matricola e con le scritte Polizia Locale sia davanti che dietro. Completano l'insieme un cappello, una cintura con appesa l'attrezzatura di servizio, calzature operative per una migliore aderenza al suolo. La nuova uniforme ora in dotazione agli agenti della Polizia Locale Terra Estensi è stata illustrata ieri mattina nella residenza comunale di Ferrara dal Vice Sindaco e Assessore della Sicurezza Nicola Lodi e dal Comandante della Polizia Locale Claudio Rimondi, accompagnati per l'occasione da quattro agenti. La nuova dotazione è ora in linea con quella regionale e diventerà effettiva a partire da lunedì, ha affermato il Vice Sindaco e Assessore della Sicurezza Nicola Lodi. Adesso invece parliamo di Avis con la camminata non competitiva di Vigarano che si terrà domani pomeriggio, domenica 5 settembre. Ritornano gli appuntamenti organizzati sul territorio dall'Avis per sensibilizzare alla cultura del dono del sangue, una sinergia tra il provinciale e le Avis comunali e in questo caso parliamo dell'Avis di Vigarano Menarda. Vediamo. Ritornano sul territorio gli appuntamenti organizzati dall'Avis con l'obiettivo di sensibilizzare alla cultura del dono del sangue. Domenica 4 settembre l'appuntamento è con la camminata gratuita non competitiva aperta a bambini adulti organizzata dall'Avis comunale di Vigarano realizzata in collaborazione con il provinciale. Possiamo chiamare questa iniziativa di Vigarano la prima iniziativa di ripresa autunnale delle attività di Avis. Io sono veramente orgoglioso del fatto che un'Avis comunale piccola come Vigarano Menarda si sia impegnata in un'iniziativa così grande come l'organizzazione di una camminata del dono nel loro comune. Sembra facile organizzare una camminata e lo è in realtà in tempi normali ma in epoca di pandemia questo non è vero. Fra permessi, distanziamenti e quant'altro è un'opera immane e il fatto che si siano impegnati in questa cosa a me dà soddisfazione perché il contributo a questa iniziativa è stato dato da un gruppo di giovani che sono entrati nel consiglio direttivo recentemente. L'Avis comunale di Vigarano ha deciso di accogliere questa proposta e la sta realizzando ed è veramente fantastica perché uno camminare vuol dire star bene, c'è il benessere della persona, due perché portiamo il nostro messaggio in quella collettività. La camminata di domenica sarà anche il luogo per ricordare la data per recarsi a donare sangue a Vigarano il prossimo 11 e 12 settembre su appuntamento. Un appello ai nostri donatori in modo che partecipano numerosi perché con la diminuzione della pandemia tutte le attività ospedaliere hanno ripreso alla grande e quindi c'è bisogno di sangue. Su appuntamento, sì. In passato prenotare la donazione di sangue sembrava un impedimento, un qualcosa che limitava il libero accesso delle persone al dono. In realtà ci stiamo rendendo conto che oggi non è così. Anzi, i giovani che oggi si avvicinano all'Avis chiedono, gradiscono la prenotazione perché così almeno hanno la definizione ben precisa del tempo che impiegheranno in questa cosa. E questo mi fa piacere perché vuol dire che la scelta che abbiamo fatto più di un anno fa della prenotazione obbligatoria è risultata utile e questo lo stiamo vedendo nei fatti. Oggi noi abbiamo, a luglio di quest'anno, un incremento di unità di sangue raccolte di 395 sa che in più rispetto al 2020, che era stato ancora maggiore rispetto al 2019. E se pensiamo che nel periodo estivo sono aumentate soprattutto l'utilizzo di sangue perché si sono aperte, gli interventi chirurgici si sono aperti, gli utilizzi del sangue in maniera massiccia bisogna che noi contribuiamo a questo tipo di necessità. E questa era la nostra ultima notizia del TV giornale di Telestense. Vi ricordo che ulteriori aggiornamenti li trovate su telestense.it e sui nostri canali social. La prossima edizione è come sempre rinnovata alle 19.30 per cui grazie per averci seguito e a tutti l'augurio di una buona giornata. Grazie a tutti.